ciao buongiorno a tutti e bentornati sul canale come sempre vi faccio promesse che non riesco a mantenere perché in questo periodo è veramente stancante stancante non tanto a livello fisico più che altro forse a livello diciamo mentale e quindi mi trovo un po in difficoltà quindi ve lo confesso mi trovo veramente in difficoltà tra il lavoro e la scuola la piscina domani riprende anche il catechismo quindi le messe mi sento leggermente sopraffatta avrei veramente necessità di dare un attimino uno stop perché poi tutto quello che di solito insomma mi piace fare ha perso veramente di interesse quindi questo è poi il sintomo di un malessere quello è chiaro insomma no come per tutte le malattie quindi anche problematiche diverse insomma hanno dei campanelli d'allarme no infatti vi faccio questo video spacchettamento di avon della campagna di ottobre che vi ricordo ho fatto addirittura il primo ottobre l'ordine e mi è arrivato praticamente già da una settimana oggi è 14 quindi fatevi un po voi l'idea di quanto tempo è che queste scatole stanno lì non le ho neanche guardate questo la dice un po lunga del mio del mio stato d'animo e vediamo quindi che cosa c'è qui dentro perché come vi ho detto non l'ho neanche aperte anzi uno l'ho aperta perché ho dovuto prendere due cose che mi avevano chiesto e le ho già date perché insomma me le hanno chieste veramente insistentemente quindi non le troverete qui ma le troverete nel prossimo video che spero di fare perché devo fare un altro ordine e quindi che hanno visto queste due cose mi sono piaciute quindi le vedrete spero che non siano esaurite anche nel prossimo e adesso vediamo allora sono due scatole una piccolissima leggerissima tra l'altro adesso l'apro e una più grande allora do uno sguardo ok qui c'è solo una cosa in questa minuscola quindi va bene e vi preannuncio che ho preso diverse anteprime di natale quindi almeno questo diciamo cerchiamo di dirci sul morale pensando un po e poi andiamo a vedere cosa c'è allora mi hanno dato un sacco di cataloghi che già ne avevo tantissimi di questa campagna perché è iniziato il nuovo trimestre e io inizio il nuovo trimestre con il programma on rewards in platino quindi sono diventata platino mentre nel nel trimestre scorso ero oro e quindi insomma speriamo di mantenerci platino anche perché prima con il vecchio sistema sono stata quasi sempre platino quindi non lo dipende un po anche da quanto riuscite poi a vendere considerate che io come sempre sapete compro anche molto per me quindi abbastanza facile da questo punto di vista ecco qua allora non sono tantissime cose però ve le faccio vedere infatti principalmente sono tanti cataloghi ho trovato ancora tiriamo su anche i campioncini ecco qua ho tirato fuori tutto allora abbiamo la fattura che è quella qua poi come vi dicevo mi hanno mandato adesso vi dico anche quanti come materiale di dimostrazione mi hanno mandato sei cataloghi della campagna quindi precedente mi sembra campagna 15 mi hanno mandato appunto sei di questi che è la campagna adesso dico ottobre io ho preso invece vi dirò perché non mi ricordo nemmeno leggo non riesco a leggere insomma comunque ho preso diversi cataloghi di novembre che sono la campagna 16 sono questi già in aria un po natalizia per ogni catalogo di novembre che ordinerete se siete chiaramente consulenti vi manderanno anche la guida al natale che appunto vale due mesi novembre e dicembre perché praticamente quando li andrete a dare andrete a dare catalogo e guida dei regali insomma quindi andrete a dare queste due cose ecco qui gli altri cataloghi questi qua poi abbiamo la home per te di novembre l'outlet mi hanno mandato poi dei campioncini perché appunto a inizio trimestre mandano questi cataloghi come dicevo prima e mi hanno mandato una serie di campioncini che sono questi due diciamo siero e rossettini ne ho sei queste colorazioni anche molto invernali no autunno inverno e poi sei sette profumini otto campioncini di profumo che sono se riesco a vederli ve lo dico e l'ultimo quindi questo profumo qui ovvero the moment questi ultimi usciti in questo mese di ottobre e adesso vi faccio vedere che infatti se non ricordo male appunto qui sono rimasti soltanto cose mie quindi sono praticamente tutte anteprima allora mi hanno finalmente mandato questo che avevo preso come anteprima se non ricordo male a settembre sì perché era della lo troviamo nel catalogo di ottobre come novità e vi faccio vedere di che cosa parlo che è questo qua eccolo qua io ho preso la colorazione bronzed bronzed rose questo che finalmente è arrivato adesso ve lo faccio vedere quindi è matt e metal vedete questa è la parte diciamo metallizzata questa è la parte matt quindi ha due applicatori ecco qua questa è la colorazione bronzed rose e mi piace sono un po i colori che poi porto un po sempre io quindi va bene e niente testeremo anche questo ma mi sono presa perché c'era l'offerta su due prodotti advanced technique ho preso due balsamo perché sono rimasta senza e penso che andrò poi a rimetterli anche nel prossimo ordine perché preferisco fare un po scorta soprattutto di shampoo e balsamo che poi alla fine sono quelli che vanno via proprio per la maggiore lo stesso di casi dei bagnoschio ma quelli li prendo sempre perché li prendo con le anteprime quindi ne ho parecchi ma shampoo e balsamo comincio a restare sempre un po sguarnita poi per quanto riguarda appunto anteprime di natale abbiamo questi due bagnoschiuma nella versione natalizia guardate quanto sono carini anche da da regalare questo è vaniglia e fico ecco qui dovrebbe essere la solita profumazione diciamo sì sempre un po quella perché poi alla fine i prodotti cambiano il pecc ma il prodotto è quello di fatto e questo verde invece è torta di mele buono torta di mele mi piace poi vediamo un po ah e questo set vedi dimenticavo era appunto un set per le consulenti in anteprima così e con i due diciamo balsamo labbra nella stessa linea diciamo nello stesso pack vaniglia e torta di mele anche questi sono carini come pensierini se ci pensate bene magari confezionati carini per le colleghe di lavoro rimane sempre un'idea molto molto bella allora vediamo che cosa c'è qua vediamo che non lo so ho preso questo per la serie decorazioni di natale questa che praticamente si si illumina vedete quindi andrà messa praticamente così e è molto carina quindi l'andrò ad aggiungere a tutte le mie decorazioni di natale come sempre se mi fa piacere spero di riuscire a fare il video decorazioni di natale che è una cosa che mi piace tanto tanto magari mi è un po sul murale poi qui invece abbiamo sempre in tema di natale questo diciamo che non ha una scatola questa cosa fatta su con del polistirolo ma sono praticamente una nirvana eccola qua con queste stelle in plastica trapparente pure belle pesantine ce ne sono tre sei dieci e qui andrà poi le batterie chiaramente e anche questa molto carina forse questa la metto sul divano togliendo l'altra che è un po più come la in metà lo sempre diamo un po più piccolina si nota poco questa penso che faccio un po più luce e mi andrò a mettere poi sul divano sulla mensola e vi farò vedere quindi prossimamente su questi schermi poi qui ho preso anche questa carina molto come idea regalo questa è la confezione come vedete gialla e panna e dentro trovate questo anche diciamo un talloncino guardate bustina che vi faccio vedere cosa c'è dentro sono due sono un paio di orecchini po difficile farli vedere da qua eccoli qua e con l'aggancio diciamo fatto così li immaginavo un po più grandi eh però mi voglio anche mettere si vede poco fosse stato più grande secondo me sarebbe stato un po più un po più carino eh però che perché è anche difficile da mettere così piccolo ecco qua ecco qua orecchini quindi me li pensavo un po più grandini sono veramente piccini sono quasi un po più da bambina forse così piccolino quindi magari per una bimba a cui piacciono gli orecchini potrebbe essere anche un'idea regalo no anche questa ho poi preso vediamo questo ve l'ho fatto vedere lo zaino questo è anche prima eccolo qua molto carino abbiamo la zip la zip davanti e dentro c'è un'altra zip come vedete qui dentro, eccola qui, se vi piacciono gli zaini, anche questo è molto carino anche da regalare, l'ho preso un po' per Martina, io non amo tantissimo lo zainetto, è difficile che lo porto, però Martina chiaro, sicuramente li indosseranno, e per queste altre due anteprime, dopo cercherò di farvi vedere anche questi indossati, allora, ho preso i pigiami di Natale, al momento ne ho presi soltanto due, uno per me e uno per Sofia, li vogliono vedere, poi vediamo se li andrò a prendere per tutti, allora questo è per me e alla M, 44-46, di solito prendo la taglia più grande, ho voluto provare una M, eccola qua, penso che andrà bene, sì, per non avere sempre i pigiami proprio enormi, in cotone 100%, e questo è il pantalone che è delizioso, come andate a vedere, veramente delizioso, non ha il polsino in fondo, quindi è largo, e questa è la versione bambina, bambina, a bambino, mi dispiace che non ci siano, come vi ho detto già l'altra volta, le taglie si terminano a 9-10 anni, perché poi resto fuori, vedi, con Matteo, con Chiara, questa è appunto la taglia 9-10 per Sofia, carinissimo, con il gingerbread, e il pantalone è uguale, solo che per fortuna per i bambini c'è il polsino finale, quindi anche se fosse il pantalone troppo lungo, rimane un po', diciamo, morbido, quindi un po' sblusato, e poi sempre per Sophie ho preso un altro pigiama, che l'essendo la più piccola, poi, è quella che rimane un po' più sguarnita, per quanto io sia una che passo vestiti da uno all'altro, però è quella che può, eccolo qua, guardate quanto è carino col pinguino, anche questo taglia 9-10 anni, e questo è il pantalone con l'orsetto, e anche questo pantalone ha il polsino finale, ecco qua, quindi questi spero di farvi vedere il nostro piccolo defilé, insieme a Sophie, quindi cercherò di farlo domani che è sabato, che siamo a casa, quindi domani mattina faremo questa mini sfilata, al pomeriggio spero di mettervi già il video, mi farebbe molto piacere, visto che sono in super ritardo. Come sempre, se questo video vi è piaciuto e vi va, lasciatemi un like, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, come vi ho appunto preannunciato, farò oggi stesso un altro ordine a Avon, quindi lo vedremo nei prossimi giorni, e prima o poi riuscirò, mi auguro a farvi vedere il video delle vacanze, non so quando, come, dove, perché, e vi lascio un grandissimo abbraccio, vi auguro un fantastico weekend, un saluto a tutti! Ciao!